È uscito il Libro dei Fatti 2015, edizione speciale per i 25 anni della storica pubblicazione della DNA Cronos. Notizie, cultura e attualità racchiusi in 960 pagine. Il Libro dei Fatti compie 25 anni e dopo un quarto di secolo si conferma un successo editoriale. Penso che sia nel DNA della DNA Cronos che il futuro è nel passato. Noi abbiamo sempre innovato e abbiamo cercato di cogliere i processi di cambiamento. Cartaceo, ma fruibile anche attraverso un'applicazione gratuita per tablet e smartphone, il Libro dei Fatti propone anche quest'anno diversi speciali. Uno è dedicato al presidente della BCE Mario Draghi, ma anche all'Expo e alla guerra e ai crimini cibernetici, attraverso un fumetto. Dalle foto a colori ai quiz, dalle nozioni di cultura generale alla cronaca, da strumento di informazione a intrattenimento. Lo si potrà comprare in libreria o ricevere gratuitamente nella catena Autogrill con l'acquisto di un libro. La prima edizione nel 1991 è nata sul modello del World Almanac americano. Nel 1983 ero a seguito del presidente Cossiga, ero in visita ufficiale alla Casa Bianca e questa Blair House vedevo disseminata nei comodini la Bibbia e il World Almanac. E domandai al presidente, dico ma cos'è? Questo manca in Italia, devi prendere i diritti. Infatti lui diceva il sapere è il potere e il potere è il sapere.